USA, indici in rialzo, spinti dal positivo dato macro sul settore immobiliare. Ieri, dopo un'ora dall'apertura delle contrattazioni delle piazze azionari americane, i listini USA hanno registrato dei progressi consistenti. A sostenere il mercato borsistico del paese a stelle strisce, è stata la pubblicazione di un ottimo dato macroeconomico, che ha mostrato una crescita inaspettata del settore immobiliare statunitense. Il Dipartimento del Commercio ha infatti annunciato che le vendite di nuove case hanno registrato nel mese di aprile un aumento a 981.000 unità, ben superiore alle stime degli investitori che erano fissate su un valore di 890.000 unità.